ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillo cicoso canale quest'oggi un breve video per mostrarvi il protagonista di oggi ovvero questa versione del bracciale polvere di stelle l'avrete sicuramente riconosciuto colgo l'occasione per comunicarvi che ora trovate lo schema disponibile su essi lascerò qui sotto il link diretto allo schema quindi vi faccio vedere nel dettaglio questa versione che adoro guardate che meraviglia di colori mi piace veramente tantissimo e con l'occasione ho realizzato la parour che vi faccio vedere infatti gli orecchini in parour guardate che spettacolo che sono basterà infatti mettere un piccolo cappietto al modulino del bracciale per realizzare anche gli orecchini in parour io trovo questa parour bellissima molto molto elegante con i colori spettacolari quindi ci tenevo a farvela vedere anche qui sul canale dopo averla pubblicata sui vari social spero di avervi fatto cosa gradita vi lascerò appunto qui sotto il link diretto allo schema che trovate in offerta nel mio show pezzi quindi io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima ciao